C'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo Buonasera e bentornati a risolto giallo dalla vostra Alessia Sorgato Benvenuti anche dal sottoscritto Niccolò Mazzavillani e questa sera si viaggia risoltisti Vi portiamo fuori Fuori Milano, usciamo proprio da Milano Indovinate un po' dove vi portiamo Ops, scusate, c'è una striscia, una fascetta In gondola usciamo Vi portiamo in gondola In gondola E vi portiamo in compagnia di Paolo Lanzotti Benvenuto Grazie, grazie, saluto a tutti Un po' più vicino al microfono Paolo è, credo in questo momento, lo scrittore di gialli storici ambientati a Venezia Che meglio rappresenta un spaccato molto preciso storico Poi ce lo facciamo raccontare E lo fa con una classe e un'eleganza che sono davvero encomiabili I suoi romanzi Va beh, ce lo facciamo dire da lui Allora, raccontaci qualche cosa E qui apposta gli stai togliendo la scena Intanto, grazie di queste parole Sono addirittura troppo Ma insomma, spero che sia effettivamente così Cosa posso dirti di questi romanzi? Sono ambientati evidentemente a Venezia Sono dei gialli storici O per meglio dire, sono quello che con una parola inglese noi chiamiamo mystery Cioè gialli classici di investigazione Un po' alla Sherlock Holmes, se vogliamo Un po' alla Poirot e così via Ambientati alla metà del 700 1753 Ma la data precisa è un po' un caso Ho potuto scegliere neanche delle altre Comunque 53 E sono tutti e tre ambientati in questo stesso anno Spesso mi chiedono per quale motivo In realtà il motivo è molto semplice Perché come forse ti sarai resa conto Una delle sottotrame principali è una storia d'amore Che nasce nel primo e prosegue nel secondo e nel terzo Quindi non poteva esserci un arco di tempo troppo grande E quindi ho scelto di ambientarli tutti nello stesso anno Quindi è Merion E' Merion che ci mette tutti nel 750 Merion è una coprotagonista che diventa sempre più importante Mano a mano che procede la serie Adesso ti posso anticipare che ci sarà anche una quarta puntata In cui prenderà veramente un ruolo molto importante Ecco Se posso dirti Come nasce? Perché è un personaggio molto particolare Marco Ciò di cui possiamo dire Ovviamente is up to you Io non dico niente Perché se no sto qua mezz'oretta Ma come ti è venuto in mente? Che cos'è che ti ha dato da trigger Per un personaggio così curioso? Sì c'è un motivo abbastanza particolare Che rappresenta un po' il bene e il male Se vogliamo da un certo punto di vista di questo personaggio Perché io ho l'impressione che oggi come oggi Siano molto di moda i personaggi negativi Gli eroi negativi Un po' i serial killer Gli sicavi della mafia e così via Mentre invece una volta si dava per scontato Che il protagonista di un romanzo Dovesse essere un personaggio comunque positivo Ecco io ho voluto in qualche modo Recuperare quel tipo di personaggio Marco Leon è un giovane Un giovane nobilomo Un giovane patrizio Di una famiglia decaduta Ed è caratterizzato proprio Ha queste caratteristiche Non è un supereroe Ha i suoi limiti Ha i suoi difetti Però nello stesso tempo È una persona estremamente leale Estremamente generosa Se vogliamo Buona Con un grande senso dell'onore Della responsabilità Del dovere Ecco io volevo recuperare Questo tipo di personaggio E se ho detto prima Che è il bene e il male Del personaggio È perché mi rendo conto Che a chi invece Piace l'eroe negativo Probabilmente questo tipo di personaggio Potrebbe non piacere Tanto gliene metti talmente tanti Di malfattori intorno Che può anche rifarsi sugli altri Perché la sua bontà viene ancora messa più in risalto E come nasce il tuo rapporto con la scrittura? Paolo e soprattutto con questo genere letterario? Io come vedi ho una certa età Quindi scrivo da parecchio tempo Ormai se ci penso Mi cadono gli ultimi capelli che ho in testa Sono quasi 50 anni che scrivo e pubblico E ho attraversato Tutta una serie di generi letterari Perché non ho mai voluto fermarmi Su di un solo genere Quindi ho cominciato per esempio Come autore di fantascienza Scrivevo racconti, romanzi di fantascienza Qui Marzia Villani Attenzione che salta sulla serie È un po' di tempo che non lo faccio più Ho avuto anche i miei momenti buoni Da questo punto di vista Comunque sono passato appunto Dalla fantascienza al fantasy Ai romanzi per ragazzi Finché ad un certo punto Sono approdato al giallo storico Non al giallo puro Perché a me piace il giallo storico Perché lo considero soprattutto Prima di tutto un romanzo storico E poi in seconda battuta un giallo A me interessa particolarmente Ricreare l'epoca Ricreare l'ambiente Infatti lo curo molto È quella cosa che curo di più Dopodiché inserisco la trama gialla Le trame gialle Perché in realtà Se hai reso conto ci sono Ma poi ne parleremo dopo Magari ce ne sono sempre due Che danno quel pizzico di sale in più Che danno quel sapore in più Al romanzo storico Secondo me naturalmente E quindi appunto Mi sono specializzato in Gialli storici Ne ho scritti per adesso Ne ho pubblicati cinque Di cui questi sono gli ultimi tre Quattro sono ambientati a Venezia Perché ce n'è anche un altro Che non fa parte di questa serie È ambientato a Venezia nel 1849 Durante la rivoluzione La famosa rivoluzione del 48 E quindi è un'altra cosa E poi ci sono questi tre Che mi hanno anche dato delle buone soddisfazioni E spero di poterle anche continuare E come si direbbe proprio dalle sue parti Che mancaria anche Che non gli davano delle soddisfazioni Un accento perfetto No non l'ho detto bene Sì 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 No l'hai detto benissimo invece No sì perché adesso svegliamo Ambe due i conduttori Blot twist Abbiamo entrambi Sia io che l'assorgato Parenti Generali No Ma molto vicini Ascendenti proprio Ascendenti Nonni Nonni veneziani Quindi Esatto Non potevamo esimerci A proposito della ricostruzione Aspetta una cosa Volevo chiedere un'ultima cosa A Paolo riguardo appunto A maggior ragione Proprio perché Hai detto che Ti impiega molto tempo Il fatto di Ricreare l'ambientazione Nella maniera più corretta possibile Quanto tempo ti richiede Questo Questo lavoro di ricerca anche Beh ovviamente Il primo romanzo Mi ha richiesto Un periodo di ricerca Più lungo degli altri Perché era la prima volta Che ti ci approvavi Era la prima volta Sai il Settecento è un periodo Molto particolare Un periodo di decadenza Da una parte E di grande gioia Di vivere dall'altro Quindi è un periodo Molto più complesso Di quanto possa sembrare A prima vista In ogni modo Prima di Osare Prima di permettermi Di scrivere Le prime parole Del primo libro Ho studiato per Più di due anni Leggendo Studiando Guardando Documentari Partecipando A conferenze Qualunque cosa Mi venisse in mente Per assorbire Quel tipo di Tutto da autodidatta Sì da autodidatta In effetti Beh siamo laureati In filosofia Tanto da autodidatta Però da questo punto di vista Sì effettivamente Sono autodidatta Quello che Leggere Soprattutto il primo Poi Ci abitui E ci coccoli E ci vizi In questo Ma quello che colpisce Nelle prime pagine Nelle prime sorsate Dell'opera Di Lanzotti È Questo Continuo Cosmeceutico Quasi Instillare Cosmeceutico Cosmeceutico Instillare Nelle Nelle sue Frasi Tutta una serie Di termini Termini Riferiti A Oggetti Giochi Perfino Le maschere Del carnevale Veneziano Lui Ci dice Come Venissero Chiamate Cosicché Io ho scoperto Che quella bianca Quella da Phantom of the Opera Si chiama Larva Quella da donna Si chiama Moretta Che per tenere Sulla moretta Dovevi infilarti Tra i denti Un bastoncino Questi termini Erano già Patrimonio Di un veneziano Come te O fanno parte Di quelle ricerche Tipo i giochi D'azzardo Quelli sono divertentissimi Biribisso Picchetto Faraone Bazzi Che il mercante fiera Lo conoscevamo Bassetta E quello Non lo scrivo Eh sì sì Quella era la più diffusa No beh In parte Come veneziano Naturalmente Alcune cose Le conoscevo Però La maggior parte Sono frutto Di studio In modo particolare Perché sono cose Che ormai Anche noi abbiamo Dimenticato Ormai Il carnevale Di Venezia Per esempio Si è rinato Ma certamente Non è quello Che c'era nel settecento Molte maschere Non ci sono E per fortuna Molte abitudini Che all'epoca Erano considerate Normali Nel carnevale Non ci sono più Perché erano piuttosto Come dire Pesantine Erano degli scherzi Abbastanza pesanti Quindi sì Se ne può dire uno Beh Per esempio C'era il lancio Delle uova Ecco Il lancio Delle uova Era una cosa Molto normale Era stato proibito Naturalmente Dal consiglio Dei dieci Perché Perché si prendevano Di mira I nobiluomini I patrizi E naturalmente Questo non si poteva fare Era abbastanza Sgradevole Insomma Come scherzo Ma era considerato Normale A me piace molto Quello della carriola La gara E lo raccontiamo Il nick Era una cosa Sì molto particolare Durante il carnevale Si faceva questa gara Cioè Gli spazzini Dell'epoca Che naturalmente Si servivano Delle carriole Facevano questa gara Che arrivava prima Spingendo La carriola Lungo le calli Veneziane Chi conosce Venezia Sa che alcune Di queste calli Sono piuttosto strette Per cui capitava Molto spesso Che ci fossero Gli scontri E dei litigi Anche questo Faceva parte Del divertimento Carnevalesco Se vogliamo Naturalmente Non per chi era coinvolto Ma per chi guardava Posso? Vai 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 Veramente? Sì sì Wow grazie No perché ci sono Dei momenti In cui si dobbiamo Guardare in tralige Vado io vai tu Sempre a proposito Di ricostruzione Storica Del periodo Io ammetto subito La debito Cioè io mi sono chiesta E non sono andata A cercare la risposta Perché la volevo da te Se Gli angeli Il consiglio dei dieci Il La quarantia Al criminal Gli avogadori Tutta questa gente Si è esistita Veramente Allora come in qualsiasi Romanzo storico C'è una parte di verità E una parte di finzione Allora Gli angeli neri No Gli angeli neri Non sono mai esistiti E anzi Ti posso dire Che a quell'epoca L'inquisizione di Stato Poi magari diciamo Che cos'era L'inquisizione Non aveva nemmeno Agenti propri Io me li sono proprio Inventati da zero Se aveva bisogno Di qualche uomo Si serviva Degli agenti Delle altre magistrature Quindi gli angeli neri E naturalmente Marco Leon Non sono mai esistiti Mentre invece Tutto il resto Sì Il consiglio dei dieci Era il vero potere Politico di Venezia Di quell'epoca L'inquisizione di Stato Che non ha niente a che fare Con il santo ufficio Non aveva niente a che fare Con la chiesa Era la mano operativa Del consiglio dei dieci Ed era temutissimo Posso raccontare una cosa Per esempio A proposito Tanto per dire Quanto fosse temuta Si dice che L'inquisizione Non avesse bisogno Di agenti Perché bastava Mandare Un suo messo Il fante Dell'inquisizione Da chi aveva commesso Qualcosa Che non andava Il fante Gli diceva semplicemente Guarda che l'inquisizione Sa Nove volte su dieci Bastava questo E il malcapitato Tornava Rapidamente Sui propri passi Tanto era appunto Temuta Questa Questa istituzione Questa magistratura Quindi Marco Leon Che è uno degli angeli Neri Ma ce ne sono altri Nella narrazione Lui è proprio Un parto Sì Non è mai esistito Non è mai esistito Non è mai esistito Non lo so C'è semplicemente Il Come dire Il capo Di questo piccolo gruppo Di agenti segreti Il cui scopo In realtà Sarebbe E qui ci ricolleghiamo Un po' A quello che si diceva Prima Che i romanzi Hanno due filoni Narrativi Hanno due linee Narrative Perché L'inquisizione di Stato Aveva molte Funzioni Ma la sua funzione Principale Era appunto Quella di salvaguardare La sicurezza Dello Stato Quindi era quello Quindi era quello Che oggi con noi Con una parola Anglosassone In inglese Chiamiamo L'intelligence L'intelligence Dell'epoca Quindi Badava Il controspionaggio Preveniva I pericoli Interni Ed esterni E così via Quindi Marco Leon E gli angeli neri Sono di fatto Degli agenti segreti Il loro scopo È appunto Quello di badare Alla sicurezza Se non che Suo malgrado Perché Marco Non è affatto contento Di questo In tutti i romanzi Contemporaneamente Si trova sempre Invischiato In qualche delitto E quindi Deve svolgere Sempre questi due ruoli Da una parte L'agente segreto Dall'altra parte L'investigatore L'investigatore Alla Poirot Ecco per dire Ecco perché Si diceva prima Che tutti i romanzi Hanno questi due filoni Che partono Parallelamente E poi si intrecciano E diventano una storia Una storia unica Comunque Sì È tutto inventato Complimenti Comunque Perché è molto realistico Un'altra domanda Che noi di solito Facciamo È Rapporto Protagonista E Autore Quanto c'è Dell'autore Di Paolo Lanzotti In Marco Leon Questa è una domanda Classica Eh Questa è molto Eh lo so È una domanda classica Ma infatti Io purtroppo Queste domande Sono Sì sì Però Fa parte proprio Del bagaglio Delle curiosità Ma certo Ma certo Allora guarda Io ti posso rispondere così Credo che quando Qualcuno scriva un romanzo Nel protagonista Ci metta sempre qualcosa Di se stesso Magari anche senza Rendersene conto Però ci mette Secondo me Anche molto di più Di quello che vorrebbe essere Di quello che non è In questo caso Vediamo Marco Leon Ha qualche caratteristica mia Ad esempio È un grande studioso A me è sempre piaciuto Studiare molto È un grande lettore Nella piccola descrizione Che faccio della sua casa Dico che è piena di libri Ecco La mia casa veneziana È piena di libri È chiaro che in queste cose qua Anche senza rendermene conto Gli ho dato un po' Delle mie caratteristiche Però anche delle caratteristiche Nelle quali io Purtroppo Non potrei mai riconoscermi Le dico una su una Tra le tante Beh a parte il fatto Che è una persona avventurosa Che vive Degli episodi Che io non mi sarei mai Sognato Di vivere in vita mia Ma a parte questo È per esempio Come tutti gli investigatori Che si rispettino Ha un grande spirito D'osservazione Un po' La Sherlock Holmes Ecco Io invece sono Una di quelle persone Che spesso guarda Ma non vede Come si dice Quindi ecco Vedi che in queste cose Gli ho dato Delle caratteristiche Di quello che io Vorrei essere Non di quello che sono Ma su questo Te lo chiedo Perché Ci è capitato spesso Autori che Dicevano Come hai detto te C'è del mio Nel protagonista Altri che invece Hanno detto È un personaggio Totalmente inventato Completamente lontano da me Però sono d'accordo Con quanto dici Cioè alla fine Magari ok Non avrà caratteristiche tue Ma qualche caratteristica Che vorresti avere Qualche caratteristica Che hai nel profondo Ma che cerchi Magari addirittura Di nascondere Non lo so Però c'è sempre qualcosa Cioè non può essere Tutto Sì No ma guarda Inventato Ma anche se uno Non se ne rende conto Quando si sceglie Un personaggio Quando si crea Un personaggio Lo si fa agire Nel modo Che uno ritiene Che ritieni Migliore Esatto Quindi in qualche modo C'è sempre qualcosa di te Esattamente I desideri Se non altro Ecco adesso Io approfitterei Forse del fatto Che è venuta anche Fiorella Per chiederle Quanto ci abbia messo Paolo A A A disvelarsi Visto che la povera Protagonista Di questi romanzi Ce ne vuole Prima che Leon Ce ne vuole Del bello e del buono Cambiamo Leggermente La La Mira Del nostro Obiettivarci Su di te E E Ovviamente Avendo tu Scelto Di ambientare In una delle città Notoriamente più belle Del mondo Sorgono due interrogativi Spontanei Il primo È Tu ti rendi conto Vero Che la parte Che fai fare a Venezia Nei tuoi romanzi È una parte Che Può stupire Il tuo lettore Mi spiego meglio Sordida Pettegola Piena Di Intrighi Piena Di Trame Ma soprattutto Sporca L'ho detto Come secondo Io ho scoperto Da Da Paolo Che i teatri Nell'epoca in cui lui ambienta Che è l'epoca di Goldoni Che ho scoperto essere avvocato Che non sapevo Io faccio l'avvocato E non lo sapevo Non avevano i servizi igienici E quindi Perché si accomodavano Sul canale No 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 Dentro al teatro Negli angoli Ah bellissimo Sì ma questo Non succedeva solo a Venezia Intendiamoci Questa è una cosa abbastanza normale Nei teatri dell'epoca Ma anche nelle case Durante le feste Le grandi feste Quando c'erano 50 60 100 persone Diventava un vero problema Beh si racconta per esempio Che in Francia Spesso si dovesse cambiare Casa addirittura Perché le condizioni igieniche Erano diventate Talmente proibitive Che non si poteva E questo succedeva Anche nei teatri Effettivamente anche Nei teatri veneziani C'è un passaggio bellissimo In cui lui dice Il suo Marco Leon E Marion Devono Sono costretti A uscire Dal teatro Perché Tra La frore Delle deiezioni E quello Delle candele di sego Lei comincia a sbarionare Lei sta male E ha proprio bisogno Di prendere una boccata d'aria Detto questo Avendo così approfondito La Venezia dell'epoca E vivendo nella Venezia di oggi Di cui molti di noi Conoscono i difetti L'invasione costante Dei turisti L'invasione Di negozianti Di dubbio gusto Cosa prova il cuore di Paolo Guarda indietro Perché se guarda ad oggi Si sente male Gli dispiace Dunque guarda La Venezia di oggi Chiaramente non è più La Venezia dei veneziani È la Venezia Di Un'altra cosa È una Venezia dei turisti È la Venezia dei piccoli negozietti E così via Per cui Chiaramente Sta diventando Un parco giochi E lo dico Con un grande rammarico D'altra parte Venezia è anche una città Fuori del tempo Non ha nulla Delle città moderne E quindi temo Che non potrebbe essere Altro che quella Che è In questo momento Perché Non vedo alternative Dal punto di vista economico Si un tempo Aveva anche delle industrie Ma erano industrie Molto piccole Oggi La città industriale Non potrebbe mai esserlo Potrebbe essere Una città del terziario Ecco Da questo punto di vista Però Dovrebbe cambiare Notevolmente Perché non è una città comoda Diciamolo francamente Una città di altri tempi Una città che andava benissimo Qualche secolo fa Ecco Neanche qualche anno fa Qualche secolo fa Ma Oggi Chiaramente Avrebbe delle difficoltà Darebbe delle difficoltà Troppo grandi A chiunque Quindi Indietro Non si torna Certo È un problema Il fatto che Venezia sia diventata Quella che è In questo momento Fai conto Che noi siamo Meno di 50.000 Abitanti A Venezia Ogni tanto Ci sono 100.000 Turisti Quindi È una cosa Impressionante Ci sono dei momenti Nei quali È difficile Camminare Per le calli Di Venezia Non parliamo Poi in certi periodi Come il Carnevale In qualche periodo Le calli Vengono messe A senso unico Come se fossero Delle strade Perché Altrimenti Sarebbe impossibile Circolare Quindi ecco Sì la Venezia Di questa epoca Evidentemente Non può piacere I veneziani Però temo Che non ci si possa Fare niente Che poi è pazzesca Questa cosa Perché se C'è Questa congestione È purtroppo Evidentemente Cioè Ovviamente Nei punti Più Che Più interessanti Più curiosi Dove la gente Vuole andare Lì Piazza Ma Se tu vai Poco più fuori E quindi giri Nelle stradine Dove non c'è Praticamente niente Non c'è nessuno C'è nessuno Lì è vuoto Cioè È pazzesca Questa cosa Mi è capitata Più di una volta Quando sono andata a Venezia Di magari Perdemi lì Nelle viuzze Perché lì è un labirinto Certo E cioè Vedi la differenza Cioè Pian piano Che ti allontani E scopri Un'altra Venezia Lì Che Secondo me È anche quella Non lo diciamo Troppo fuori Che sennò i turisti Poi vanno anche lì Però È anche quella Un'attrazione Cioè Venezia Non è solamente Piazza San Marco Ponte di Alto Cioè C'è un punto Che preferisci Beh io Per esempio Ho una particolare Simpatia Per la zona Delle Zattere Perché Il canale davanti È molto largo Ci sono degli spazi Che per la maggior parte Della città Non ci sono Poi Ecco Se uno ha una casa là È molto luminosa Uno dei problemi Per esempio Di molte case Di molti appartamenti Veneziani È proprio la luce Io per esempio Vivo in una casa Molto luminosa Perché sono al quinto piano Però sono Sono fortunato Ci sono molti Altri case In cui Bisogna tenere La luce accesa Praticamente Tutto il giorno Quindi ecco Quello fosse Se dovessi Cambiare casa E avessi la possibilità Di acquistare Una casa In quella zona Cosa che Quasi proibitiva Attenzione Diciamolo anche Diciamolo anche a lei Che tu eri vicina A valutare Una casa Il mio sogno Nella vita È comprarmi qualcosa A Venezia Pensaci bene Capito Lo dice anche lui Rimarrà un sogno Ma è sempre stato Il mio sogno Mai dire mai Per carità Però in effetti È una città Molto costosa A questo punto E le case Sono Hanno dei prezzi Piuttosto elevati Marco Leon Dove abita? Marco Leon Io lo so Ma voglio che Ve lo dica Sì no A Santrovaso Santrovaso Che è una zona Appunto vicina Alle Alle Zattere E dove c'è Lo squero Praticamente In realtà Non è l'unico Ma è l'unico Che i turisti Conoscono Lo squero È il luogo Dove si fanno Le gondole Per dirla Ed è rimasto Praticamente L'unico famoso E lui abita In quelle In quelle vicinanze Perlomeno così Io ho immaginato Ovviamente Quella zona Nel Settecento Era ben diversa Da quella di oggi Ma insomma Io l'ho immaginato Io non ho chiesto In moglie Mia nonna Davanti a uno squero Ma non era questo Ce ne sono È Sant'Omà Può essere Sant'Omà Beh sì È anche possibile Sì 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 Ok Lì Che uomo È mio nonna Beh una volta Sai gli squeri Venezia era piena Di squeri Ovviamente Oggi ce ne sono C'è questo Che è molto famoso Ce ne sono altri tre Mi pare Sono rimasti E ce n'è uno Che adesso È in mano Un australiano Beh questo Non lo so Ma se può essere Un ragazzo australiano Che è andato a bottega Dall'artigiano E poi l'artigiano È mancato È andato in pensione E lui è rimasto A giusta gondole Sistema gondola Questa è una bella cosa Perché uno dei problemi Appunto Degli squeraroli È il fatto che Non si trovano più giovani Che vogliano fare Il mestiere Quindi appunto Se viene dall'Australia Non mi stupisce Perché È abbastanza normale Ci anticipavi che Stai scrivendo O hai scritto Anche una quarta avventura Di Marco Sto completando La quarta puntata Anche perché La casa editrice Me la sollecita E ovviamente Stanno andando bene E quindi Mi ha assolutamente Detto che devo Mandargli all'entro A fine dell'anno Ma insomma Penso che ce la farò Non si può dire niente No No Alessia Alessia Cosa vuoi Va bene Vogliamo chiedere Vuoi chiedergli L'ultima cosina Ce la facciamo Abbiamo tempo La regia dice di no Allora Della regia Ce ne infischiamo Guarda Io La domanda era Una che hai fatto Te A rapporto con Venezia Ma lei Me l'hai praticamente fregata Vabbè Allora Pichiamoci alla regia Se dovessi scegliere Uno dei Cioè il tuo preferito Di questi tre Quale diresti Guarda Per molti punti Dunque Il primo chiaramente È quello che mi è più caro Perché con quello Ho cominciato E quindi chiaramente Però guarda Il secondo Secondo me È il più equilibrato Dei tre Dal punto di vista Proprio della trama Però insomma Tutto sommato Siccome sono figli miei Non posso dire Ci mancherebbe Questo È il piccolo È il più giovane Che sta per diventare L'intermedio Bene Noi siamo Entusiasti Di averti conosciuto Grazie Entusiasti Di averti Avuto qui Molto Riconoscenti Perché l'autore È venuto da Venezia A trovarci Bene Io ringrazio voi Mi avete fatto l'onore Di presentarmi A questa trasmissione Quindi vi ringrazio Sono molto contenti Quindi Salutiamo la veneziana E io non sono Un veneziano Di quelli che ha Il gran dialetto Perché non sono Abituato a parlare In dialetto Sembra strano Ma è così Buona serata Buona serata a tutti Buona serata Anche da parte mia Quanto c'è di giallo Nella vostra vita? E quanto c'è di noir Nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi Ha risolto giallo! Luca Quindi Ciao Grazie.